Vi sono relazioni nella vita che cambiano, si trasformano, ma ve ne sono altre più stabili e sicure. Come è l'evento Relazioni Sicure, cioè il primo pronto soccorso per amici cani, curata appunto da Pietro Franceschi, veterinario. Di cosa si tratta? Presso la pubblica assistenza di Campi Bisenzio, con il patrocinio della Gione Toscana, facciamo questa mattinata di informazione sul primo soccorso veterinario. Cosa fare se al tuo cane, se sei lontano dal tuo veterinario, dalla tua clinica, dal tuo ambulatorio, succede qualcosa? Morso di una vipera, se sei al mare, ti bevi tanta acqua, inizia a vomitare. Qui il collega Marco Bonazza spiegherà che cosa fare. Ci sarà anche Erika Coppoli, una educatrice cinofila, in cui si spiega un po' come funziona l'olfatto del cane e l'educazione di un cane a lavorare per l'uomo. Intanto fornite un kit di primo soccorso, giusto? Che contiene che cosa? Contiene delle forbicine, delle garze, una pinzetta per togliere la zecca, che si sa, quando si va in campagna alle presenze selvatici ce ne sono tante. Se per l'appunto le tempistiche non sono, diciamo, immediate, chiamare il veterinario, ma magari faccio già qualcosa che può aiutare a salvare la vita del proprio animale. Penso sia una bella iniziativa. E' importante per gli esseri umani e anche per gli animali. E poi ci sarà anche un altro piccolo omaggio di una collega a questo primo soccorso veterinario. Insomma, tanti gadget. Ricordiamo dove si trova? Pubblica assistenza di Campi Bisenzio, via Urli. E ricordiamoci che ha avuto il patrocinio della Regione Toscana. Grazie.